È un esempio clamoroso quello del parcheggio multipiano di Via Dante. I lavori per il secondo lotto sono stati assegnati dallo scorso settembre a un consorzio di patti in provincia di Messina, dopo la revoca del precedente appalto, siglato a febbraio, che era andato a una ditta di caserta, quando i lavori non erano neppure cominciati. Era stato infatti necessario indire una nuova gara che si era giudicata la nuova ditta siciliana. I parcheggi di Via Dante sono fondamentali per Cremona, soprattutto per i pendolari, e aver tenuto fermo per anni quell'area di parcheggio è stato un danno enorme per la cittadinanza. Adesso abbiamo chiesto di sapere a che punto erano i lavori e come stavano andando avanti, anche perché i cantieri si stanno sbloccando, i materiali stanno arrivando in qualsiasi cantiere edile, quindi non c'è più la situazione dell'anno scorso, di due anni fa. La risposta dell'assessore è stata che stanno arrivando i materiali che si stanno sbloccando a breve. Vediamo se nel giro di un mese o due la situazione effettivamente si sblocca, se no farò un'interiore interrogazione per capire a che punto siamo, insisto. Il costo finale dell'opera dovrebbe essere di 1.404.000 euro, a seguito di un aggiornamento dei prezzi dovuto al rincaro dei materiali. Proprio questi sarebbero stati la causa dei ritardi della partenza dei lavori, anche se nel Consiglio Comunale odierno è stato garantito che dovrebbero arrivare in tempi brevissimi. Le solite promesse, spero che non si arrivi fino alla campagna elettorale del 2024, per avere il parcheggio lo faremo un po' prima.